Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva il via libera del Senato al decreto lavoro con assegno di inclusione, cuneo fiscale, vediamo esattamente. Intanto passa con 95 sì, 55 no e 10 astenuti. Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo, con la fiducia, il decreto lavoro. Introduce l'Adi, l'assegno di inclusione, al posto del reddito di cittadinanza dal 1 gennaio 2024 e toglie i paletti e i contratti a termine e a quelli di apprendistato, ma solo per alcune categorie di lavoratori. Taglia fino al 7% il cuneo fiscale per i redditi più bassi, con i redditi fino a 25 mila euro lordi all'anno viene tagliato il cuneo fiscale fino al 7%, questo fino però a dicembre di quest'anno, dopo si vedrà. Ma intanto non parte da adesso, ma parte da luglio, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, esattamente sei mesi. Deve essere convertito in legge però il 3 di luglio. Se non viene convertito in legge, automaticamente decade, con tutti gli effetti anche retroattivi. Intanto il governo esulta. Viene definito il primo passo per creare un sistema di norme moderne che tutelino i lavoratori e garantiscano i datori di lavoro e per questo tese a ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro. L'opposizione invece parla di decreto precarietà perché vengono tolti degli impedimenti per fare dei paletti, per fare i contratti a tempo determinato. Però abbiamo visto con i dati dell'ISTAT che il lavoro a tempo determinato è in forte riduzione ed è in forte aumento il lavoro a tempo indeterminato. Quindi questo decreto non crea precarietà, facilita agli imprenditori assumere a tempo determinato anche se gli imprenditori oggi preferiscono assumere a tempo indeterminato. Perché? Stipendi bassi, stipendi da fame, un gancio per non perdere il candidato per quel posto di lavoro e dirgli che il lavoro è a tempo indeterminato. Insomma è un qualcosa che si fa per non perdere il candidato. Il PD con boccia dice che il provvedimento è pessimo e aumenta la precarietà per i lavoratori e punisce i poveri. Il principio in cui crede la maggioranza è che la povertà sia una colpa e chi è povero lo è perché non vuole lavorare. Ma la realtà è ben diversa. Il governo non ha mai detto che è contro i poveri perché i poveri non hanno voglia di lavorare. Il governo ha sempre detto cancelliamo una parte del reddito di cittadinanza perché se no molta gente smette di cercare lavoro, se ne sta a casa e prende lo stipendietto dello Stato. Perché prendere 650-680 euro di reddito di cittadinanza oggi è quasi il doppio di molti stipendi in nero nel centro-sud Italia dove ti danno 350 euro al mese per lavorare 10 ore al giorno. Quindi è anche normale che molta gente abbia pensato lo Stato mi dà il doppio senza far niente sto a casa. Ecco, ma questo non vuol dire che colpevolizzare il povero perché non vuole lavorare. Insomma sono dei paragoni, delle assonanze completamente inventate. Viene approvato poi un emendamento che aumenta le risorse per l'editoria, per il pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti. 1,2 milioni di euro nel 2023, 4 milioni nel 2024-2027, 2,8 milioni nel 2028. E la Federazione Italiana Editori Giornali esprime soddisfazione e auspica la conversione in legge del decreto che consentirà alle imprese del settore di favorire il ricambio generazionale con l'inserimento di nuove risorse per utilizzare al meglio le opportunità offerte. Insomma, un favore all'editoria, visto che sono poi quelli che scrivono gli articoli sui politici, quindi do dei soldi, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, cani, nisciune e fess. Bene, che cosa cambia per contratti e tasse? Contratti a termine, l'incremento del taglio del cugno fiscale che porterà più soldi in busta paga per i redditi più bassi, ma solo da luglio a dicembre. Agevolazioni per le assunzioni di giovani, novità per i percettori dell'assegno di inclusione ADI, l'ex reddito, che potranno rifiutare un'offerta di lavoro a tempo determinato, ma solo se i genitori di figli under 14. Prorogato fino a fine dicembre lo smart working. E poi sarà più facile rinnovare i contratti a termine, tra le norme del decreto lavoro approvate ieri al Senato c'è anche la semplificazione dei rinnovi dei contratti che potranno essere effettuati senza le causali, così come già previsto per le proroghe, ma solo per un massimo di 12 mesi. Salta il tetto del 20% per i contratti di apprendistato, ma solo per lavoratori in mobilità disoccupati o svantaggiati. Previste agevolazioni contributive per chi assume under 30 o lavoratori fino a 35 anni di età al sud. Cresce il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro che si traduce fino a 100 euro, perché in questi giorni sento dire diamo 100 euro ai lavoratori che guadagnano di meno. Fino a 100 euro al mese in più per alcune fasce di reddito, ma solo nel periodo luglio-dicembre 2023. Smart working e bonus esentasse a 3.000 euro. L'innalzamento a 3.000 euro delle soglie esentasse per i fringe benefit, ma solo per i dipendenti con figli a carico e l'esenzione riguarda anche la parte contributiva oltre che fiscale. Il libretto di famiglia potrà essere acquistato anche in tabaccheria oltre che alle poste. Non ho idea di che cosa serva il libretto di famiglia acquistato in tabaccheria, non lo so. E poi si parla del reddito di cittadinanza a Dio e arrivano le risorse per l'inclusione. Quindi verranno pagati solo persone, nuclei familiari con minori a carico, disabili, anziani sopra i 60 anni di età. Revisione della scala di equivalenza e ampliamento della platea anche a soggetti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza. I soggetti occupabili con figli sotto i 14 anni possono rifiutare l'impiego a tempo determinato se distante oltre 80 km dalla propria residenza. Sono previsti poi corsi e percorsi di formazione personalizzati. Poi ci sono un fondo per le vittime infortuni e lavoratori del turismo. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.